Rimini chiamato Rino Andrea siamo in partenza da Roma allora che facciamo andiamo a Miami Beach o alle finali di Rimini? Finali Rimini assolutamente, WISP sì, WISP sei, prego WISP, Rimini stiamo arrivando ciao si parte per Rimini, nazionali prima rassegna, arrivo partenza per Rimini prima rassegna nazionale ci vediamo stasera ciao ciao e anche noi partiamo andiamo a prendere l'altro tremate tremate pallabolisti che guardate appena partiti da Treviso gli ultimi due arbitri col sorriso ciao 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 ciao